Se tu credi che Gesù è Dio, senza credere che Gesù è figlio, tu fai di Gesù un altro Dio all'infuori di Dio, un'altra divinità. E contraddici il primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me. E se tu credi che Gesù è figlio, senza credere che Gesù è Dio, vorrebbe dire che Gesù non esiste da sempre e che non è da sempre figlio di Dio. E allora tu non puoi chiamare Dio in senso letterale. Dio sarebbe padre in senso metaforico o al massimo un padre adottivo, ma non è un padre nella sua essenza. Non è un padre che sente nelle sue viscere l'amore per il figlio perché il figlio è nato dal suo grembo. Invece Dio è padre da sempre e Gesù è figlio da sempre, da tutta l'eternità. E quindi Gesù è Dio. E il padre e il figlio sono una cosa sola. Quindi sono un unico Dio. e sono due persone che si amano. E anche l'amore tra loro è eterno e da sempre ed è lo Spirito Santo. l'amore che è persona, lo Spirito Santo. È l'amore eterno che esisteva prima dell'universo e degli angeli. Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Credere in Gesù è l'unico modo per credere in Dio nel modo giusto. Prima di tutto, perché credi che Dio è padre da sempre, da tutta l'eternità, perché da sempre ha un figlio, come abbiamo spiegato prima. E poi perché è solo guardando Gesù sulla croce che tu scopri il vero volto di Dio. e vieni guarito dalle false immagini di Dio che ti sei fatto tu o che gli altri ti hanno raccontato. È solo guardando Gesù sulla croce che capisci come è fatto quell'amore eterno che è lo Spirito Santo. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Non solo Gesù è Dio, ma soprattutto Dio è Gesù. Dio è manifestato dalla carne di Gesù Cristo. Vuoi capire come è fatto Dio, che carattere ha, come si comporta? Guarda Gesù, è specialmente Gesù povero, Gesù che lavora, Gesù che serve, Gesù che si commuove, Gesù che ha misericordia, Gesù che guarisce, Gesù che mangia e fa festa, Gesù che muore in croce. Dio è povero perché dona tutto, Dio lavora sempre, Dio si fa servo, Dio si commuove e perdona, Dio libera e guarisce, Dio vuole far festa per noi, Dio muore per noi. Guardando a Gesù scopriremo che non c'è nessuno più umano di Dio. E che tutto ciò che è profondamente umano è anche profondamente divino. E in fondo è anche quello che dice Dante nel canto 33, il paradiso, no? Chi vede, vede la nostra immagine, il nostro effigeno in Dio, che è Gesù, ma siamo anche tutti noi. E poi il mio viso era tutto, qualcuno dice giustamente lo sguardo, ma qualcuno lo interpreta anche perché ho il mio viso, ero anch'io, mi sono specchiato in quel volto. Chi è Dio? E' uno che mi ama come ama il figlio. E credere al figlio significa credere che Gesù mi ama. E credere che il suo amore è segno dell'amore di Dio per me. Credere non è un atto cieco, ma è vedere la realtà, che Dio è Padre e che noi siamo figli. E scoprire un nuovo volto di Dio, un Dio per cui la gloria è essere Padre. E poco più, sempre in quel capitolo, come anche dice un po' prima, Gesù dice io sono la luce. Nascere e venire alla luce. Prima sei nelle tenebre del grembo della madre, dopo sei immerso nella luce. E puoi vedere ed essere visto. Ma c'è una luce eterna che ci fa vedere le cose invisibili, e questa luce è Gesù Cristo. E quando nasciamo spiritualmente, noi siamo immersi in Gesù Cristo, luce eterna. E questa luce che è Gesù ci fa vedere Dio amore, ci fa vedere le cose di Dio. E questa luce risplende sul nostro volto. E rende visibile la nostra identità dei figli. E fa sì che anche noi diamo luce, come la luna riflette la luce del sole. Nella luce, nella Genesi, scusate, la luce è la prima cosa che Dio ha creato. E sia la luce, eh, il primo giorno. E la luce fu. Perché segno della luce increata, che è Gesù. E il paradiso sarà abitare nella luce, come appunto descrive Dante nella Divina Commedia. E come fa la luce eterna che è Gesù ad entrare in noi? Attraverso gli occhi? No, attraverso le orecchie. Gesù si illumina attraverso le sue parole. Se qualcuno ascolta le mie parole e le osserva e non le osserva, io non lo condanno. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. E prima dice, io sono nel venuto nel mondo come luce. Perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Quindi è una luce che ci entra attraverso le orecchie. Ascoltando la parola di Gesù, entra Gesù luce nella nostra vita. E noi ci immergiamo in Gesù luce, ascoltando e custodendo le sue parole. Gesù è la luce che ti entra attraverso le orecchie. È una luce da ascoltare. E se dopo aver ascoltato te ne dimentichi, torni nelle tenebre e ti autocondanni. E tutte le parole di Gesù si riassumono nel comandamento che lui ha ricevuto dal Padre e che fa a noi. Cioè, amatevi.